Un caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. Il protagonista della motivazione di oggi, la cui storia è la motivazione di oggi, non sapevo minimamente chi fosse, eppure lo conoscevo da sempre e con ogni probabilità lo conoscete anche voi. L'ho scoperto leggendo un piccolo libro che da tanto tempo dovevo leggere, e mi ero ripromesso di leggere, avevo sempre rimandato, finalmente ho avuto l'occasione di farlo. Si chiama La disobbedienza civile di Henry David Thoreau, uno dei principali esponenti del trascendentalismo americano, detto anche idealismo americano, il cui principale esponente è Ralph Waldo Emerson. Di Ralph Waldo Emerson dovremmo parlare a lungo e parleremo a lungo in altre occasioni, perché è una sorta di crocevia tra l'idealismo, il pragmatismo e lo spiritualismo. Infatti il termine superconscio proviene dal concetto di superanima, proviene anche dal concetto di superanima caro a Ralph Waldo Emerson, che pochi lo sanno è uno dei padri ispiratori anche del nuovo pensiero. E lui meravigliosamente convergono e si integrano il pragmatismo psicologico, per esempio di William James. Ne abbiamo parlato quando abbiamo accennato più volte al fatto che un pensiero crea lo stato di realtà per la mente, nello specifico il carattere nasce dall'atteggiamento che si attiva, così come l'atteggiamento è l'effetto del carattere. Abbiamo detto più volte, abbiamo usato l'esempio più volte del sorrido e quindi sono contento, sono contento perciò sorrido, ma anche sorridere, quindi avere un atteggiamento pragmaticamente attivo, intenzionale, a freddo, determina lo stesso effetto. A questo si aggiunge il trascendentalismo, cioè il fatto che la realtà è l'effetto di qualcosa che precede la realtà e che la trascende. Prima viene lo spirito, poi viene la realtà, prima viene la mente, il pensiero, poi viene la realtà irreale, che altro non è che la materializzazione del pensiero. A tutti gli effetti uno degli slogan più cari al nuovo pensiero, alla legge di attrazione e alla crescita personale, i pensieri sono cose, è perfettamente aderente al pensiero di Ralph Waldo Emerson, in più il concetto spirituale. Questo precedere la realtà è qualcosa di spirituale, la metafisica è spirituale e, e qui vi è l'originalità, dell'individualismo spirituale di natura americana, anche se in realtà, a mio parere, si ricongiunge perfettamente con l'insegnamento originale abramitico della connessione individuo-Dio. Ad ogni modo, ogni individuo, attraverso la connessione spirituale, realizza la sua più alta, non soltanto aspirazione, ma realizza il suo vero destino, che è quello di essere parte della superanima, parte della natura spirituale dell'universo e suo canale di manifestazione. Anzi, domani vi faccio ascoltare proprio il passaggio della superanima che viene citato, non a caso, dal meraviglioso la scienza della grandezza di Wallace T. Wattels. Torniamo a Henry David Thoreau, che è un esponente, come dicevamo, del trascendentalismo ed è caratterizzato da un forte impegno politico e sociale. L'individualismo in Henry David Thoreau si traduce nel fatto che l'unica cosa che conta è l'individuo. L'unica cosa che conta per la società, per lo sviluppo della società, per una sana politica, è la libertà dell'individuo. E come sentite siamo nel pieno del pensiero originale americano, delle caratteristiche del pensiero americano. Henry David Thoreau, peraltro, è stato autore di quel Walden, o Lo spirito dei boschi, è stato autore di un altro celebre piccolo libro dal titolo Camminare. E quindi, diciamo così, nel trascendentalismo svolge il ruolo della critica alla civilizzazione e del ritorno alla natura. Ritorno alla natura che si identifica con il ritorno dell'individuo in sé, dentro di sé, nel ritrovare nella sua relazione con la natura il significato più profondo della sua esistenza. Thoreau era anche uno abbastanza incazzato, diremmo oggi dal punto di vista politico. Oggi lo definiremmo una sorta di anarco-individualista e apertamente dichiarava il diritto sacrosanto di andare contro le leggi, quando queste leggi sono ingiuste, di andare contro lo Stato, quando lo Stato è ingiusto, di lottare anche contro le leggi, disobbediendo ad esse, quando le leggi vanno contro la giustizia, la quale trova naturalmente il suo fondamento nella spiritualità, nella metafisica, ma anche nei grandi valori, nella prospettiva di Thoreau, nei grandi valori americani. Primo fra tutti il valore della libertà individuale, libertà civile, libertà di espressione, libertà di poter gestire autonomamente il proprio corpo, la propria mente e libertà di seguire ciò che si crede essere giusto. E proprio il termine disobbedienza civile, se non nasce proprio con Thoreau, non ricordo esattamente se proprio a lui si deve la paternità dell'espressione, sicuramente grazie a questo libro in particolare diventa di dominio pubblico, questa espressione diventa parte importante del pensiero politico e dell'azione politica successiva. Siamo qui a metà dell'Ottocento, siamo durante, poco prima e poi dopo la guerra di secessione. Ecco che alla fine di questo piccolo libro che vi consiglio, molto intenso e molto molto stimolante, siccome in molte situazioni di questo genere, quando vi è un piccolo libro che bisogna vendere, l'editore per giustificare anche il prezzo di copertina e anche per distribuire comunque un libro che abbia una sua validità come tale, in genere gli editori integrano lo scritto che dà il titolo al volume con altri scritti. E proprio in appendice, diciamo così, a disobbedienza civile, trovo un altro scritto che si chiama In difesa del capitano John Brown. Avendo qualche annetto sulle spalle di letture, sono piuttosto scettico in generale rispetto a questi scritti che vengono un po' appioppati al lettore per gonfiare, diciamo così, il volume e resto un po' indeciso se leggerlo o non leggerlo. Poi mi dico, ma sì dai, diamoci un'occhiata. Inizio a leggerlo e mi trovo di fronte a uno scritto appassionato in difesa proprio di questo capitano John Brown che nel 1859 è stato uno dei primi dichiarati avversari disobbedienti alle leggi schiaviste che ha intrapreso azioni dirette e anche violente per liberare schiavi dai loro schiavisti e poi ho scoperto storicamente essere stato uno dei precursori della guerra di secessione. Infatti le sue azioni hanno iniziato a preoccupare gli stati del sud che altre persone avrebbero potuto seguire queste stesse sue azioni di incursioni, di azioni quasi da guerriglia per liberare gli schiavi. Questo ha generato un effetto a catena che ha portato prima alla secessione degli stati del sud e poi alla guerra di secessione che inizia poi nel 1861. Quindi l'importanza storica di questo capitano John Brown diventa immediatamente evidente però devo dire posso dire di essere certamente un interessato alla storia americana di quel periodo anche perché una delle mie figure in assoluto di riferimento è Abraham Lincoln che è stato protagonista ovviamente di quella stagione ma non posso certo dire di essere un appassionato. questo episodio mi ha certamente interessato ma non mi ha coinvolto più di tanto. Però vado avanti nella lettura e seguo l'appassionata difesa di Thoreau di questo capitano John Brown perché poi viene catturato e viene condannato a morte. Verrà poi eseguita la condanna a morte per impiccagione il 2 dicembre 1859 e pochi giorni prima Thoreau legge questa appassionata difesa. Una difesa appassionata che naturalmente porta questo capitano John Brown a diventare un simbolo, un simbolo della disobbedienza civile rispetto a un governo ingiusto, un simbolo della ricerca della libertà dell'individuo, il simbolo della ribellione verso l'oppressore, il simbolo di chi crede nell'uguaglianza di tutti gli uomini e di tutte le donne, il simbolo di chi crede in valori supremi che sono il vero fondamento di ogni nostra azione, di ogni nostro agire, di ogni nostro pensiero umano. Il simbolo di chi non ha paura, il simbolo del coraggio, il simbolo di chi è disposto a dare la vita per i propri ideali ed è una strategia retorica molto efficace, molto potente quella di Thoreau che ci porta sempre di più fuori dal corpo di quest'uomo che verrà giustiziato a breve e ci guida nella sua anima immortale. Infatti scrive Thoreau verso la fine di questa sua meravigliosa difesa. E i giudici devono interpretare la legge secondo la lettera oppure secondo lo spirito. Non è possibile che un uomo possa aver ragione e il governo torto? Sono qui a difendere davanti a voi la causa di quest'uomo. Non difendo la sua vita ma la sua personalità, la sua anima immortale. Così diventa una causa interamente vostra e per nulla sua. Circa 1800 anni fa Cristo fu crocifisso. Questa mattina può darsi che il capitano Brown sia stato impiccato. Queste sono le due estremità di una catena che non è priva di anelli. Lui non è più il vecchio Brown. Lui è un angelo della luce. Ecco e mentre leggevo queste parole nella mia mente, nelle mie orecchie, sentivo sempre di più un ritornello, una sorta di nenia, una canzoncina che sgorgava davvero da qualche parte della mia anima, della mia memoria, la ascoltavo e dicevo non è possibile che sia questa. La canzoncina fa così. John Brown giace nella tomba là nel pian dopo una lunga lotta contro l'oppressor. John Brown giace nella tomba là nel pian ma l'anima vive ancora. Quante volte l'ho cantata e ricantata. Era una canzone che da bambini tutti noi cantavamo a scuola, nei boy scout, nei ritiri, senza conoscerne l'origine, senza conoscerne la storia. Possibile che quel John Brown di questa canzoncina che ripetevo, 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 ricantavo, ricantavo insieme a tutti gli altri, senza conoscerne l'origine, fosse proprio questo John Brown. Era, è, proprio così. quel John Brown è questo John Brown. La storia di John Brown è diventata una canzone popolare che è diventata un inno della libertà perché la cosa bella, la cosa più bella in tutto questo è che quando cantavamo questa canzone in coro tutti insieme noi non ne conoscevamo la storia ma la cantavamo per il suo significato universale ed era una parte dell'educazione che oggi purtroppo in questa società sempre più materialisticamente repressa oltre che depressa non viene più insegnato l'educazione alla libertà, l'educazione al riconoscere il valore della libertà, l'educazione a riconoscere il valore del coraggio, a riconoscere il valore dell'ideale. John Brown nella canzone era l'ideale del coraggio e della libertà di colui, chiunque sia, che lotta fino in fondo per affermare i suoi ideali fino ad arrivare a morire per essi e così a diventare immortale. Glorie, 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 alleluia, 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità, ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Grazie a tutti.